Sorprende tutti per la sua lucidità e la sua memoria a Calogera Galipò. La pensionata di Capodorlando che vive a Palermo ha festeggiato ieri 100 anni nella sua abitazione di Contrada Piana. Insieme alle due figlie, nonna Calogera, ha ricevuto ieri pomeriggio il parroco della parrocchia di Sant'Antonino, padre Nino Culò, con il quale si è soffermato a parlare dei propri valori e della sua profonda fede. La cosa bella che ho provato è immensa quando partorì di mio figlio dopo tre giorni e tre notti di un parto prematuro. E questa è una gioia immensa perché mi fece calmare tranquillamente. Poi ha ricevuto gli auguri dei parenti che vivono nel comune Paladino, con i quali ha ricordato aneddoti del proprio passato, ma con il riservo che contraddistingue le donne di un tempo. Ci sono momenti, anche se sono brevi, non si riesce a raccontarle, non è giusto magari raccontarle, non me le tengo per me. Il mio cuore è confidentio. Domani la raggiungeranno gli altri parenti per la festa vera e propria, alla quale presenzierà anche il sindaco di Capodorlando, Franco Ingrilli.